E tu, chi sei? Ciao, Amy. Signore, l'uomo sta tornando. Amy! Dov'è Amy? Sta bene, dottore, è solo svegluta. Oh, ok. Oh, sì. È stata sedata tutto qui. Mezz'ora è stata bene. Ok, romani. Bene, vi servivano proprio dei romani. E brava, River, quanti siete? Sopra ci sono 50 volontari. Ma quella cosa cos'è? 50, non proprio una legione. La tua amica è stata molto persuasiva, ma non era così semplice. Sì, lo so, Rory, di solito l'ovvio non mi sfugge, ma ci serve tutto l'aiuto possibile. Cosa? Ok, cyberarne. Praticamente questo è un posto di guardia e l'amico qui era una sentinella. Probabilmente è stato pestato dai locali, mai sottovalutare i Celti. Dottore. Rory, sto pensando, perché lasciare un Cyberman qui? Forse c'è un Cyber nel cubo. Ma perché rinchiudere uno di loro? Ok, no, 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 niente Cyber, ma allora cosa? Cosa? No, mi sta sfuggendo qualcosa di ovvio, Rory, qualcosa di grosso e ce l'ho proprio davanti agli occhi, me lo sento. Sì, probabilmente sì. Ci arriverò fra un minuto. Ciao, Rory. Ciao. Ciao. Come andate? Bene, sì, bene. Insomma, sono un romano. Rory, non per essere scortese, ma tu sei morto. Sì, lo so, ero là. Sei morto e sei stato cancellato dal tempo, non sei soltanto morto, non sei mai nato, non sei mai esistito. Cancellato? Che cosa significa? Come puoi essere qui? Come puoi essere qui? Non lo so. È tutto un po' confuso. Confuso? Beh, sono morto e mi sono ritrovato romano, è una cosa che confude. Quelli sono mancato. Quelli sono mancato. ну amaterию. No. No. Ma la tipo. No, non sei. No,enson ansi.